Eccoci qua nuovamente con altri puffi oggi parliamo del codice 2034 a sinistra puffo judo 2035 puffetta tennista e 2036 puffo con zucca vi rammento e vi ricordo che sul mio blog www.thesmurseworld.blogspot.it siamo già giunti alle serie sempre marca Shake sempre in gomma dura e sempre dipinti a mano quindi se avete un pochino più fretta non vi interessano i video insomma lì trovate sia le foto che la descrizione basta solamente che guardate nell'archivio ho messo le etichette quindi tutti i puffi semplici sono insieme se poi sapete il codice del puffo o il nome del puffo che lo si può intuire da quello che è in mano da cosa fa basta che lo scriviate nella barra di ricerca in alto a sinistra e date l'invio e vi porta sul codice e sul puffo che state cercando bene torniamo a questi puffi iniziamo con il puffo judo codice 20134 puffo che più che judo sembra che sia dormendo allegramente in piedi molto carino eccolo qua poi abbiamo la puffetta tennista 20135 in questo caso la racchetta è in plastica dura tutto il resto è in gomma anche la base eccolo qua poi abbiamo il puffo con zucca io vi sto facendo vedere il puffo con zucca che ha la faccia la zucca però in teoria sarebbe quello classico quello senza la faccia non è che l'ho disegnata io esiste solo che il più classico sarebbe senza questo disegno davanti che ripeto non l'ho fatto io ma esiste proprio e questo è il codice 20136 puffo con zucca oltre a rammentarvi del blog come vi ho detto in precedenza vi ricordo che mi trovate su facebook come Michi Nesti o nel gruppo Smurse in the World è un gruppo pubblico dove si parla di puffi dove gradirei non ci fosse pornografia violenza cioè cose assurde perché non ha senso stiamo parlando di una collezione dove non ci sono puffi in vendita però ci sono collezionisti appassionati di tutto il mondo quindi se avete bisogno di informazioni volete solamente scuriosare siete tutti ben accetti sempre che si rispettino queste piccole regole di comportamento civile niente di che mi trovate anche su twitter come sognatrice32 e su instagram come sognatrice14 vi aspetto con i prossimi tre puffi e vi ringrazio sempre